Taglia, va bene. Ecco, è venuto qui all'Admo Gianluca Genoni che ha voluto iscriversi per dare la sua immagine a questo tipo di donazione. Cosa ne pensi? Penso che sia una bella iniziativa, un'iniziativa che a me non è costata assolutamente fatica, non è stato per niente né doloroso né una cosa particolarmente estrema, un normalissimo fallievo di sangue e spero che questo gesto così semplice possa in un futuro aiutare qualcuno che ha problemi ben più gravi di quelli che possono essere i miei. Quindi lo suggeriresti a tanti giovani che ti possono vedere e sentire? Ma sì, diciamo che gesti di questo tipo, seppur semplici, devono essere sentiti, anche perché presuppongono un certo impegno anche futuro, nel senso che se poi per caso tu vieni chiamato a fare questa donazione, credo che devi renderti disponibile a farlo. Lo consiglio a tutti perché alla fine, oltre a poter essere ad aiuto altre persone, sono gesti che ti fanno anche stare meglio, cioè ti senti meglio, ti senti più utile diciamo alla società facendo questi piccoli gesti.